Quali sono i 14 milioni di uomini che per fascia di età, familiarità, perché c'è ereditarietà anche nel tumore della prostata e altri fattori, sono a rischio di ammellarsi di tumore alla prostata. Nel 2010 sono stati stimati 42.000 casi di carcinoma della prostata. Ecco, questi sono i tassi di incidenza del carcinoma della prostata e vedete come c'è un picco di incidenza molto alto. E questi sono i tassi di mortalità sempre, questo è per il polmone e questo è per il tumore della prostata, vedete che tutto sommato c'è stato un picco negli anni 90 e poi adesso sta calando la mortalità, forse perché rispondiamo a me. Comunque il polmone è quello più pericoloso. Il polmone e bronche è il più frebvento. No, perché come frequenza non è molto alta, la mortalità non è molto alta, è molto più pericoloso. più rischio pericoloso. No, attualmente la vostra, dottore, che non viene più, ma c'è l'aperto, non è si viene più globotizzato. Adesso poi lo vedremo, poi lo parleremo di terapia, adesso siamo ancora nell'epidemiologia. il cancro della prostata, i fattori di rischio, quelli che aumentano le probabilità che insorga il carcinoma della prostata, l'ereditarietà, la predisposizione genetica, tant'è vero e poi diciamo che quando in una famiglia c'è un caso di carcinoma della prostata, bisogna anticipare i controlli, mentre rispetto a uno che non ha familiarità, diciamo 45-50 anni, in questi casi anche a 40 anni iniziare il dosaggio del PSA e poi abbiamo già accennato prima i fattori ambientali, fattori ambientali e soprattutto le abitudini alimentari, l'uso di grassi, poi vedremo, facilita l'insorgenza del carcinoma della prostata. L'ereditarietà, aumenta di due volte in caso di un parente di primo grado, da 5 a 11 volte in caso di due o più parenti di primo grado, noi abbiamo qui a Sarorno casi di tre fratelli con tre carcinoma della prostata. La familiarità, soprattutto tra fratelli, perché si trasmette con un cromosoma ben identificato è importante, quindi chi ha una familiarità per il carcinoma della prostata deve fare molta più attenzione a questa malattia. Pazienti con cancro ereditario della prostata di solito hanno un'insorgenza più precoce, circa di 6-7 anni prima dei casi sporadici, ma non differiscono per il decorso e per la gravità della malattia. Questo è quello che vi dicevo prima. Ci sono delle regioni dell'est, del Giappone e dell'India, in cui l'incidenza del carcinoma della prostata è molto più bassa rispetto a quello che si verifica nei paesi occidentali. però quando i giapponesi emigrano negli Stati Uniti e assumono le abitudini di vita degli Stati Uniti, hanno la stessa incidenza degli abitanti negli Stati Uniti. Questo ha fatto pensare alla soia. I giapponesi consumano tanta soia e questo ostacola l'insorgenza, tanto pesce, poi vedremo anche se l'uso del Giappone 3, la soia perché inibisce l'azione del testosterona. E tornando indietro alla terapia dell'ipertrofia prostatica benigna, la modazia, adesso lo prescrivo con notevole facilità, perché si è visto che oltre che a ridurre i sintomi dell'adenoma prostatico, è sicuramente efficace nella prevenzione del carcinoma della prostata. E' stato pubblicato due anni fa uno studio randomizzato, fatto multicentrico, cioè in molti paesi d'Europa, in cui si è visto che chi veniva curato con avolar aveva un'incidenza più bassa del carcinoma della prostata. Ecco, in questi casi le abitudini alimentari sicuramente condizionano l'insorgenza del carcinoma della prostata. E si è visto recentemente, anche questo è stato pubblicato, con studi randomizzati quindi sicuramente affidabili, che anche il decorso, una volta fatta la diagnosi e posto in atto il trattamento chirurgico, radiante o medico della carcinoma della prostata, le abitudini alimentari sono importanti per ridurre le probabilità di progressione della malattia. E poi vedremo quali sono queste abitudini alimentari. La soia è uno dei cibi che vengono consigliati. Fattori ambientali, che sono soprattutto, abbiamo detto, fattori alimentari. Qui c'è tutta una serie di cibi, alcuni che favoriscono l'insorgenza, altri che ne ostacolano l'insorgenza. Quello che sicuramente facilita l'insorgenza del cancro della prostata è una dieta ricca di grassi, di grassi sapori soprattutto, i grassi contenuti nel burro, nel latte, nei formaggi e nelle carni rosse. Invece, ecco, ci sono dei grassi che invece sembrano ostacolare l'insorgenza, ridurre le probabilità di insorgenza del carcinoma della prostata. Questi sono quelli, gli omega 3, i grassi presenti nei pesci sono quelli che ostacolano maggiormente sia l'insorgenza sia la progressione del carcinoma della prostata. Mentre gli omega 6, che sono sempre grassi polinsaturi, questi favoriscono la progressione della malattia. E normalmente nella dieta, in una dieta bilanciata, l'apporto di grassi è del 25%, 25-30%. I grassi polinsaturi dovrebbero essere il 50% dei grassi che si apportano, quindi soprattutto l'uso di pesci. Non sono questi grassi, l'organismo non riesce a produrli da solo, devono essere introdotti con l'alimentazione. Oppure adesso c'è tutta una serie di prodotti a base di omega 3 che vengono assunti. Perché si è visto anche che si ostacola la progressione dell'insorgenza del carcinoma quando il rapporto tra omega 3 e omega 6 è a favore degli omega 3. Cioè, nell'apporto di grassi devono prevalere sicuramente gli omega 3. Scusi, gli omega 6 invece favoriscono l'insorgenza del carcinoma? Cioè, quando in una dieta il rapporto tra omega 6 è sbilanciato nettamente a favore degli omega 6, c'è più probabilità di progressione della malattia e di insorgenza della malattia. L'olio di oliva è fondamentale, sembra che è un grasso monosaturo e i grassi dell'olio di oliva ostacolano sia la progressione sia l'insorgenza del carcinoma della prostata. E' per questo che i dati di epidemiologia dimostrano come l'incidenza del carcinoma della prostata è più basso nei paesi a dieta mediterranea rispetto ai paesi che fanno uso di grassi soprattutto sagri. Il burro, le formaggi e la... ecco, poi per esempio si è visto che la liquirizia, i cavoli, i pomodori sono ricchi di prodotti tutti questi sono i prodotti presenti, le sostanze presenti in questi prodotti alimentari che inibiscono la crescita del carcinoma della prostata e la sua insorgenza. Perché si verifica questo? Perché l'uso dei grassi, abbiamo detto di certi tipi di grassi riduce il rischio di insorgenza del carcinoma della prostata. Mantiene basso il PSA dopo per la prostatectomia radicale perché agisce su queste sostanze, fattori di crescita che favoriscono i fatti infiammatori e la riproduzione delle gelole tumorali. Inoltre blocca, queste sono delle linee cellulare di carcinoma prostatico, linee cellulare maligne particolarmente aggressivi, ormono resistente, sembra che i prodotti, le sostanze contenute in questi prodotti dai pomodori, cauli, cifone, erba, cipollina, eccetera, bloccano la proliferazione di queste cellule carcinomatose prostatiche particolarmente aggressive. Quindi è fondamentale l'alimentazione sia per la prevenzione sia per arrestare la progressione in chi lo ha avuto. I fattori di B, ecco, queste sono delle ipotesi, l'attività sessuale, certe abitudini, il comportamento sessuale, il consumo di alcol, non è stata sicuramente dimostrato che questo possa condizionare l'insorgenza. Noi diciamo che una pratica sessuale non corretta, praticata non assessanale, magari da giovane, può favorire le prostatite e le prostatite poi possono sicuramente favorire l'insorgenza del carcinoma e della prostata. Però non abbiamo uno studio in cui questo è sicuramente dimostrato. Scusi dottore, una domanda. L'acna di Cengio ha dimostrato che il termine di sostanze basi per i coloranti, tipo la benzina, appunto, sulla prostata non c'è nessuna sostanza chimica che non è stata dimostrata. Mentre sulla vescica si... Io mi ricordo quando sono arrivato a Pavia, a Sarono, negli anni Ottanta, andavamo all'acna a fare le visite di Cesano Maderno perché facevano le visite urologiche obbligatorie. Per colpa della benzina. Perché c'erano tutta una serie di sostanze chimiche, dalla benzina, all'anilina, ai coloranti che poi vengono eliminati, ma non nella prostata, nel tumore della vescica. La nicotina, il fumo di sigaretta, sicuramente favorisce l'insorgenza del tumore della vescica perché i prodotti della nicotina vengono eliminati dai reni, passano prima nella ringe, nella gola, nel pulmone, poi vanno nella vescica. E sono sicuramente tra i fattori che possono determinare, non di tutti, però i fumatori hanno una maggiore incidenza di tumore vescicali. E uno operato, dieci sigarette al giorno, aumentano di cinque volte le probabilità che abbiano la recidiva. Però sulla prostata non è stata dimostrata. Vorrei fare una domanda che può essere a dire, le persone come diagnosi, come diagnosi come prevenzione primaria, chi ha dei casi in famiglia, padre, nonni, disnonni, a che età deve cominciare ad andare dal urologo? A 40 anni, molto prima rispetto a chi ha 40 anni deve cominciare a fare un PSA, se poi a 40 anni il PSA è 0,2 lo farà dopo 2-3 anni, se è 2,5 è diverso l'impatto. Però voglio fare una precisazione, la prevenzione primaria in questo campo ancora è lontana, perché la prevenzione primaria significa impedire che insorca il tumore, come per esempio la malaria che era fatta venire dalle zanzari, hanno ucciso le zanzari e hanno fatto una prevenzione primaria sulla malaria. Qui noi possiamo fare solo diagnosi precoce. Ho detto anche prevenzione secondaria. O prevenzione secondaria. La diagnosi precoce che poi è fondamentale per i migliori risultati che si possono ottenere rispetto a cui la diagnosi termina. Certo, la seconda domanda è sempre sul discorso della familiarità, che sembra l'unica cosa c'è per la razza. È vero che se ci sono dei casi in famiglia di tumori viandolari anche femminili, cioè un uomo che ha la mamma, la nonna che ha avuto il tumore al seno, quindi ghiandola come non è una ghiandola alla prostata, deve sicuramente tenere... Sì, sì, sì. Sono state dimostrate affinità tra tumore del seno femminile e tumore della prostata, ma molte affinità sul decorso, sull'insorgenza, per cui, se sì, chi ha questa... deve fare un'attenzione maggiore sui tumori della prostata. Grazie, dottor. Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale. Tutti chiedono, c'è un sintomo particolare che fa pensare alla presenza del tumore della prostata? Purtroppo no. Non c'è nessun segnale specifico del carcinoma della prostata. Un sintomo che, in presenza del quale, si può dire che c'è il tumore della prostata. Il carcinoma della prostata fa aumentare le dimensioni della prostata e dà gli stessi disturbi che dà l'adenoma della prostata. Tutti quei disturbi che abbiamo visto prima, la polachioria di urna, la polachioria noturna, la disuria, sono comuni sia all'adenoma della prostata che al carcinoma della prostata. Oppure addirittura ci possono essere dei carcinoma della prostata che non danno nessun segno struttivo, perché se le dimensioni del carcinoma non sono tali da creare ostruzione, uno non ha nessun disturbo. Un altro aspetto che è importante tenere presente nel carcinoma della prostata e che non tutti i carcinoma della prostata hanno lo stesso comportamento biologico. Ci sono dei tumori prostatici che restano lì nella prostata e non danno nessun problema. Ci sono dei tumori della prostata che purtroppo sono aggressivi. Il problema nostro attuale è quello che noi non abbiamo nessun esame che ci permette di differenziare il carcinoma della prostata aggressivo da quello non aggressivo. Non abbiamo nessun esame. E quindi questo poi ci condiziona nella scelta dei trattamenti. Perché se noi sapessimo che quel tumore resta lì per 30 anni, un uomo di 70 anni, nessuno lo andrebbe a toccare. Bellissimo. Però non abbiamo nessuna possibilità di capirlo in tempo. Tant'è vero che poi quando parleremo dei trattamenti vedremo come adesso si fa della sorveglianza. Cioè ci sono dei casi in cui noi facciamo diagnosi di carcinoma della prostata. Però abbiamo dei criteri che ci permettono di dire non ti operiamo, non ti irradiamo, stiamo a vedere come va. Perché si è visto che moltissimi tumori della prostata restano fermi per decenni. Tant'è vero che il motivo per cui non è più consigliato lo screening. Cioè voi credo che abbiate ricevuto tutti dalla provincia di Varese la lettera dell'ASLA per andare a fare l'esame delle feci per vedere. Perché si è visto che facendo lo screening del tumore del colon si ha una riduzione della mortalità per carcinoma del colon. Nella donna si fa sul seno, si fa sulla cervice. Perché si è visto che facendo questa prevenzione, questo screening, si ha una riduzione della mortalità. Nel caso della prostata, quando negli anni 80 il PSA è entrato, si sono iniziati screening, ma non solo in Italia, su tutta la popolazione, in Austria, Germania, negli Stati Uniti. A distanza di 10 anni si è fatto un bilancio che si è visto che non si era avuta nessuna variazione di mortalità. Si era avuto un maggior numero di diagnosi di carcinoma della prostata. Si aveva avuto un maggior numero di trattamenti per tumore della prostata, chirurgici o radioterapici, però non si aveva avuta nessuna riduzione di mortalità. La diagnosi. Vedete sempre in prima fila l'esplorazione rettale, il dosaggio del PSA, che è la spia che ci fa pensare al carcinoma della prostata e comunque, come diceva prima la signora Maria, ribadisco, un PSA normale non esclude la presenza del carcinoma della prostata. L'ecografia transretale, però non è diagnostica l'ecografia transretale. L'ecografia transretale ci dà un'immagine sulla struttura della prostata. Può essere una struttura omogenea, ci possono essere zone nere o zone iperecogenee, zone bianche. Il carcinoma della prostata può coesistere con una struttura omogenea, con una struttura iperecogenea o con una struttura ipoecogenea. Quindi non c'è nessuna immagine tipica che ci fa, dice c'è il tumore alla prostata. L'unico esame che ci permette di fare diagnosi di carcinoma della prostata, in questo momento, è la biopsia prostatica. La biopsia prostatica, io mi ricordo quando facevamo all'inizio le biopsie, facevamo due prelievi, una da una parte e una dall'altra. Adesso siamo arrivati a farne di base 6 e 6 e ne facciamo poi, quando è negativa e a distanza di tempo il PSA è ancora alta, ne facciamo quelle di saturazione, con 25-30 prelievi, perché più prelievi facciamo, meno rischi di errore ci siamo. L'ecografia translettale... Dottore, una cosa importantissima, io rispondo al numero verde, succedono cose incredibili sulla frequenza delle biopsie che vengono fatte fare. Lei quanti mesi consiglia di distanza tra alcuni minimo, tra una biopsia? Ecco, ripeto, dipende dall'esame istologico che arriva sulla biopsia, perché ci sono delle situazioni di precancerosi. No, non nel caso di precancerosi. Io aspetto un anno almeno, io aspetto un anno. Però se uno ha la precancerosi, l'ASAP o la cosa, non aspetto un anno. No, no, certo. Però in caso è negativa, io non ho la terapia con Avodarte per 7-8 mesi, dopodiché ripeto il PSA e vediamo come vuol. Però almeno un anno più. Grazie.